coppia comunicazione relazione si sente spesso dire abbiamo un problema di comunicazione dovremmo migliorare la nostra comunicazione dobbiamo risolvere i nostri problemi di comunicazione non riusciamo a comunicare eccetera eccetera quindi sono diverse le coppie che si trovano in difficoltà che non si sentono capita molte volte mi viene detto è come se io parlassi francese e lei inglese no cioè una cosa di questo tipo già parliamo completamente due lingue diverse non riusciamo a comunicare non riusciamo più a trovarci a capirci ora se sulla comunicazione si può dire tantissimo prova a farti tre esempi o meglio però a farti un esempio composto di tre parti in modo che comunque chiariamo uno dei principali concetti uno dei concetti base per riuscire a comunicare efficacemente all'interno di una relazione poi approfondiremo insomma trovi ad esempio il webinar sul sito piuttosto che tutta una serie di altri video sempre sul canale che parlano di questo argomento però proviamo da mettere in sicurezza delle certezze ok cioè proviamo a mettere un po delle milestones che permettono di orientarsi all'interno appunto magico ma difficile mondo della comunicazione di coppia e queste si chiamano soggetto oggetto persona persona barra emozione partiamo subito dall'esempio così poi la regola la traiamo da lì mi racconto questa parte qua ma questo è un aneddoto carino stavo facendo uno dei miei primissimi corsi di comunicazione penso fosse il 2009 una cosa di questo tipo ero ero in inghilterra e allora avevo di fronte diciamo la classe non gli studenti lavoravo nella formazione del personale sanitario e ad un certo punto stavo spiegando più o meno questo concetto qui poi adesso riedatto un attimo l'esempio perché viene viene molto bene rispetto a quello che in testa però un certo punto salta su questo infermiere mi dice però matteo cioè fai un esempio allora io faccio un esempio cerco di raccontare e lui mi dice no 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 fai un esempio concreto fai un esempio vero altrimenti poi in inglese invece al 30 sono tutte bullshit no che vuol dire sono tutte delle stupidaggini e allora non lo so mi è venuta questa cosa e da lì poi ho raccontato questo esempio in questo esempio ora me lo porto nel cuore insomma in maniera molto cara ecco sono sono grato a questo esempio perché insomma me la sono cavata in una situazione di difficoltà era anche una delle prime ed è questo magari lei l'hai già sentito perché mi è capitato anche di raccontarlo in passato dinamica di coppia per cui nelle famiglie diciamo a stereotipo anche nella mia funziona così chi porta fuori la spazzatura è l'uomo no poi adesso magari ci sarà una serie di commenti che dicono non è vero la porto fuori io vabbè a stereotipo no cioè non lo so a stereotipo la donna stende l'uomo porta fuori la spazzatura stereotipo la donna fa la lavatrice l'uomo cambia l'olio della macchina poi non è vero ovviamente no però stereotipo funziona così per il nostro esempio funziona bene anche questo questo stereotipo c'è il cesto insomma il bidone della spazzatura in casa pieno e lei dice a lui c'è da portare giù la spazzatura per favore fallo esempio sta di fatto che lui dice sì sì passa la giornata il giorno dopo la spazzatura ancora lì e lei può rispondere in tre modi diversi può dire è possibile che quando ti chiedo qualcosa tu non la fai mai soggetto oggetto ti ho chiesto di fare una cosa e non l'hai fatta la spazzatura è ancora lì persona o emozione quando ti chiedo una cosa e non la fai mi fa arrabbiare mi fa male oppure ti ho chiesto di portare giù la spazzatura e siccome non l'hai fatto non mi sento ascoltata ora è facile capire come queste tre diverse risposte obiezioni di lei nel vedere la spazzatura ancora lì per l'ennesimo magari giorno implicano dei meta messaggi c'è una meta comunicazione molto diversa tra loro nel primo caso lei dice è possibile che quando ti chiedo qualcosa tu non la fai mai c'è sta generalizzando non sta parlando dell'oggetto della conversazione cioè il fatto che lui non abbia portato giù la spazzatura ma sta dando un giudizio di valore a lui come soggetto questo è estremamente rischioso testimonia probabilmente ora una volontà di litigare una crisi una forte una profonda insoddisfazione il fatto che sia già magari un argomento incancrenito nella coppia e che a lei risuona molto nel secondo caso parla dell'oggetto e magari li può essere anche un po più dura ti ho chiesto di portare giù la spazzatura e non l'hai fatto ora lo fai porta laggiù qui per quanto magari la comunicazione è più dura è oggettiva cioè parla dell'oggetto non dice a lui io non mi posso fidare di te ma dice io ho chiesto a te di fare una cosa che tra l'altro è un tuo compito e tu non l'hai fatta ora risolvi ok può sembrare apparentemente sul momento più dura però è più onesta più trasparente cioè non c'è una dietrologia sta parlando del oggetto della conversazione cioè il fatto che lui non abbia portato giù la spazzatura punto numero 3 possibilità numero 3 fa vedere come si sente lei si sente in questo caso magari arrabbiata non ascoltata eccetera in funzione di un comportamento di luce qui non sta giudicando non è da confondere con il comportamento numero 1 quello in cui parla del giudizio del soggetto e quindi da un giudizio di valore alla persona ma fa vedere alla persona come quindi al partner come il suo comportamento suscita in lei un'emozione e quell'emozione non è sindacabile cioè il fatto che lei si possa sentire arrabbiata si possa sentire non ascoltata non è un qualcosa che lui può sindacare è un qualcosa che sente lei lei parla delle sue emozioni sta parlando di sé non sta neanche dicendo ora tu cambi che è un po l'implicito del primo messaggio ma sta dicendo il fatto che non abbia fatto mi fa sentire così il fatto che tu ti sia comportato in questa maniera suscita in me questo tipo di emozione e quindi in qualche modo delega poi a lui e dice ora che tu lo sai scegli come comportarti di conseguenza sono tre tipi di comunicazione che su una cosa molto semplice come chi ha portato giù la spazzatura e chi no implicano però e sottendono però tre stili di comunicazione e tre possibili reazioni diverse e esiti diversi ovviamente è fondamentale che prima che lei utilizzi una cosa o l'altra e poi non è che ce n'è uno giusto sbagliate dipende qual è l'obiettivo di lei rispetto a questo tipo di comunicazione possono suscitare reazioni diverse in funzione qual è l'obiettivo però la comunicazione efficace dove sta nel riuscire a capire cos'è che io voglio generare e suscitare e trovare la via giusta per comunicare questo tipo di messaggio in funzione che il messaggio sia efficace nel suscitare la risposta che io desidero in funzione di quale fosse l'obiettivo di lei che questo in questo momento non è importante lei poteva scegliere o può scegliere una di queste tre vie che suscitano tre potenziali reazioni diverse che poi magari andremo a vedere in un altro video poi da lì si innesca il tutto però da qui penso sia abbastanza semplice riuscire ad estrapolare la regola no cioè la comunicazione efficace quando la comunicazione efficace quando c'è congruenza tra ciò che io voglio suscitare nell'altro quindi ciò il messaggio che voglio passare e come effettivamente costruisco questo messaggio in linea di massima nel primo caso sto attaccando sono arrabbiata sono rancorosa nel secondo caso invece voglio parlare dell'oggetto quindi pretendo che questa cosa venga fatta sono orientata parlo femminile per l'esempio sono orientata al risultato nel terzo caso invece parlo delle mie emozioni e qui le cose ovviamente cambiano perché cerco di mettere su un piano emotivo il concetto cerco di far vedere come una azione suscita una reazione suscita uno stato d'animo e chiedo all'altro di aver cura del mio stato d'animo pensaci se vuoi ci riflettiamo nei commenti fammi sapere cosa ne pensi